Le vittime della tragedia di Refrontolo sono appena state sepolte e oltre al doveroso ossequio a queste vittime c'è il discorso. Qualcuno parla di fatalità, di destino, qualcuno di incuria, ma io dico una cosa, non c'è un fatto proprio strutturale importante da considerare. In Italia per la difesa del suolo, per l'idrogeologico, per fare gli argini, per cercare di scongiurare casi come questi, gli italiani pagano 44 miliardi di tasse all'anno. Ma quanti ne vengono spesi di questi per fare quello che è necessario? Qualcosa come l'1%, cioè 440 milioni. Non è forse questo il problema?